A volte credo di non essere normale, ma poi che vuol dire essere normali? Immagino significhi essere come tutti gli altri. Scusate, qualche volta faccio dei pensieri un po' stupidi. Di solito li tengo per me perché non voglio che la gente pensi che sia uno strano. In realtà penso che tutti facciano dei pensieri stupidi a volte, ma che nessuno voglia ammetterlo. Pensieri tipo... Nah, meglio non dirivo, lo sarebbe un po' imbarazzante. Però voglio chiedervi una cosa. Vi è mai capitato di vagare con la mente, con la fantasia? Che una cosa vi prenda tantissimo, ma poi improvvisamente vi bloccate perché vi rendete conto che state facendo un pensiero troppo incasinato e vi siete persi? Beh, a me succede sempre. Quasi sempre. Molto spesso anche adesso. Per questo sembro strano. In realtà non volevo parlarvi di questo, cioè in realtà mi ero perso nel mio pensiero e... Sembro ridicolo e sconclusionato. perché mi guardate così? Ma a voi, onestamente, la testa non fa mai brutti scherzi. Grazie. Grazie.